Musica Collesano e Castelbuono, blitz antiassenteismo dei carabinieri scoperti al comune e 15 furbetti del cartellino. Lavoratori di Wind3 stamane in protesta a Palermo contro uno studio di esternalizzazione avviato dall'azienda. La Fondazione Giro di Cefalù ha dato il via ad un nuovo servizio di chirurgia ortopedica oncologica. Buonasera e bentrovati alla prima edizione di Media News di giovedì 11 aprile. Come avete sentito dai titoli Collesano e Castelbuono, blitz antiassenteismo dei carabinieri scoperti al comune, 15 furbetti del cartellino. Timbravano il cartellino e poi facevano altro, la spesa oppure altri lavori. I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno dato oggi esecuzione a ordinanze di applicazione di 15 misure cautelari personali, 9 interdittive della sospensione dal pubblico ufficio servizio per la durata di 8 mesi, 6 coercitive dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento è stato emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Termini Merese su richiesta di quella procura della Repubblica. Le indagini sono state avviate sul finire del 2016 dal NORM della compagnia di Cefalù e dalle stazioni di Castelbuono e Collesano in seguito alla ricezione di un esposto ed hanno consentito di documentare sia mediante attività tecniche e sistemi di videosorveglianza sia con tradizionali servizi di osservazione e pedinamento ripetute e ingiustificate assenze durante l'orario lavorativo da parte di alcuni impiegati comunali di varie aree funzionali, nonché di taluni lavoratori socialmente utili nell'ambito del progetto Attività Donne finanziato dalla Regione Siciliana del Comune di Collesano che erano soliti assentarsi sistematicamente durante il servizio per effettuare commissioni personali o addiretture in alcuni casi per svolgere altre prestazioni di lavoro per conto di privati, pulizie in ambito domestico e presso stabili condominali. Nell'indagine, oltre alle 15 misure eseguite, ci sono altri indagati e pubblici lavoratori dei comuni nei cui confronti si procede a piede libero. E in merito al blitz antiassenteismo, ascoltiamo il comandante della compagnia di Cefalù, Capitano Leonardo Bricca. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica Termini Merese sono state avviate a seguito della ricezione di un esposto nel quale venivano dettagliatamente riportate le condotte penalmente rilevanti poste in essere dai dipendenti pubblici e dai lavoratori socialmente utili dei comuni di Castelbuono e Collesano. E in più da informazioni acquisite direttamente sul territorio, dai comandi stazione e in questo caso appunto parliamo della stazione Carabinieri di Collesano e della stazione Carabinieri di Castelbuono. Abbiamo documentato grazie all'ausilio di sistemi di biosorveglianza e tramite anche metodi tradizionali di indagine quindi tramite osservazione e pedinamento. Il danno patrimoniale tra l'altro che è stato arregato all'amministrazione d'appartenenza e oltre a quello che deriva dall'erogazione degli stipendi anche nei momenti in cui i lavoratori erano assenti dal lavoro ingiustificatamente deriva anche dal danno di immagine per lente e in più dal danno derivato dalla mancanza dell'erogazione del servizio per il cittadino. Sono dipendenti pubblici e lavoratori socialmente utili. Sono dipendenti pubblici di varie aree funzionali del comune. Le misure adottate in questo caso sono state quella dell'obbligo di presentazione dell'APG e dell'interdittiva dei pubblici uffici per un periodo di otto mesi. Nella maggior parte dei casi abbiamo accertato che venivano esplodate delle incombenze personali. In altri casi invece venivano addirittura dei secondi lavori e quindi c'erano delle seconde attività professionali che venivano svolte per conto di privati. Pubblicata sul sito dell'assessorato regionale dell'energia la bozza preliminare del nuovo piano energetico ambientale della regione siciliana che il governo musumece ha aggiornato al 2030. Oltre 400.000 lavoratori coinvolti, un'occupazione media di 35.000 addetti l'anno tra il 2020 e il 2030. 15 miliardi e mezzo di investimenti da realizzare a regime. Numeri che possono essere raggiunti in un decennio grazie al potenziamento degli impianti esistenti attraverso una progressiva riduzione dell'impatto ambientale ed un'operazione di ristrutturazione delle strutture vetuste. È quanto previsto dal piano energetico ambientale della regione siciliana che il governo musumece ha aggiornato al 2030. Il testo è stato già pubblicato sul sito dell'assessorato regionale all'energia. Si tratta di una bozza preliminare che dovrà passare dall'aggiunta e dalla commissione attività produttiva all'Ars. Il piano energetico ambientale, si legge nel documento, definisce gli obiettivi al 2020-2030. La regione intende dotarsi dello strumento strategico fondamentale per seguire e governare lo sviluppo energetico del suo territorio sostenendo e promuovendo la filiera energetica, tutelando l'ambiente per costruire un futuro sostenibile di benessere e qualità della vita. Sull'impiantistica si prevede di rimettere in sesto le strutture spesso vetuste e di applicare nuovi strumenti e tecniche innovative per garantire prestazioni migliori. La Sicilia si posiziona al quarto posto per efficienza degli impianti superiori a 800 MW, ma il decadimento è doppio rispetto alla media nazionale. Un impianto su tre presenta un livello di efficienza inferiore del 10% rispetto alla media regionale. Altra problematica emersa, in Sicilia sono presenti il 15-20% degli impianti in procedura concorsuale a livello nazionale. Su questi la regione vuole intervenire per sensibilizzare i curatori e i commissari e fornire supporto per una migliore gestione. Intervenendo su queste criticità, la regione intende recuperare una parte sostanziosa di produzione energetica. Nel frattempo il gestore GSE sta aiutando la regione a censire aree dismesse o agricole non utilizzate per valorizzarle e renderle produttive. Nel nuovo patto dei sindaci, integrato per l'energia e il clima, i firmatari si impegnano a raggiungere entro il 2030 l'obiettivo di ridurre del 40% le emissioni. La Sicilia, su 390 comuni, conta oltre 350 amministrazioni che hanno sottoscritto l'atto di adesione e di questi circa 240 hanno avuto accettato il piano di azione a livello comunitario. Con i decreti firmati al dirigente generale del Dipartimento sono stati finanziati 343 comuni. Per gli altri a breve ci sarà un'altra possibilità di presentare l'istanza. Lavoratori di Wind3 stamani in protesta a Palermo contro uno studio di esternalizzazione avviato dall'azienda. Il progetto, secondo i dipendenti che ascoltiamo nell'intervista, aprirebbe scenari incerti per il loro futuro professionale. Vediamo. Oggi i lavoratori Wind3 scendono in piazza per dire no ai trasferimenti dalla sede di Roma a Milano e per dire no all'esternalizzazione di rami importanti dell'azienda. L'azienda in un incontro ci ha comunicato l'intenzione di esternalizzare rami molto importanti come i data center e le BTS. Oggi scendevi in piazza per ricordare all'azienda che i data center sono il cuore di questa azienda e la professione dei lavoratori non si può perdere in questo modo. Quindi diciamo no ai trasferimenti di Roma ma no all'esternalizzazione dei data center. Teniamo che questo sia l'inizio di uno spantellamento di questa azienda. Questa azienda ormai del 100% di proprietà cinese sta cercando di attuare delle politiche che a nostro riguardo sono davvero pazzesche. L'esternalizzazione dei data center, l'esternalizzazione delle BTS, queste sono politiche che a oggi non ci garantiscono un futuro. Voi eravate e siete stati riqualificati. Noi abbiamo fatto tantissimo per essere riqualificati, abbiamo speso tantissimo nel nostro tempo e ci siamo impegnati contanto abbandonando anche certificando le nostre famiglie. Ci abbiamo creduto in questo progetto e abbiamo dimostrato con i risultati che abbiamo fatto bene a credere in questo progetto e quindi l'azienda non può far finta di nulla. Oggi manifestiamo in tutta Italia contro i progetti sbagliati che Wind3 ha proposto ai tavoli romani che prevedono comunque una riduzione del perimetro occupazionale. Nello specifico prevedono una serie di trasferimenti, circa 100-150 lavoratori da Roma a Milano, l'esternalizzazione dei data center che dovrebbe impattare un centinaio di lavoratori a Palermo e anche l'esternalizzazione delle torri con ulteriori 100 lavoratori. Questo progetto che vuole essere solo un raggranellare dei soldi per far budget visto il debito dell'azienda, secondo le organizzazioni sindacali non ha nulla di progettuale che può portare a un miglioramento della situazione aziendale. Quindi questo show per oggi è stato portato avanti dalle tre organizzazioni sindacali per cercare di bloccare tale processo e vedere di incontrare l'azienda per portare nuove opzioni rispetto a quello che può essere veramente un doloroso evento per tutti i lavoratori di questa azienda. Ex province, marcia di protesta dei sindaci messinesi in prefettura. Cateno De Luca ha consegnato al prefetto la fascia di sindaco della città. Oggi sono nel regno del sottosegretario all'economia Alessio Villarosa, Barcellona, Castro Reale e siamo giunti alla conclusione proprio con i colleghi sindaci che è arrivato il momento di reagire a questo silenzio e soprattutto a queste proposte indecenti che ci provengono proprio da chi si era impegnato a risolvere il problema finanziario dell'ex province di tutta la Sicilia. Vogliamo lanciare la nostra reazione con una marcia di protesta l'1 maggio, ore 9, ci raduneremo tutti i sindaci della provincia di Messina a Piazza Duomo a Messina e faremo una nostra marcia di protesta fino alla prefettura. Chiederemo a Sua Eccellenza il prefetto, visto che rappresenta lo Stato nella nostra provincia, di agire anche perché noi non siamo più nelle condizioni di poter giustificare queste omissioni e soprattutto non siamo più nelle condizioni di poter continuare a reggere queste omiliazioni a causa proprio di una situazione finanziaria che non si sblocca. Abbiamo oltre 400 milioni di euro di investimenti fermi e abbiamo strade in pericolo, scuole in pericolo e subiamo continuamente questa mortificazione che lo Stato, nella persona del sottosegretario all'economia Alessio Villarosa, continua a riservare alla Sicilia. Non ci stiamo più, è il momento di reagire. Lo dico a tutti i miei colleghi sindaci. L'1 maggio alle ore 9 ci vediamo a Piazza Duomo con le nostre fasce e andremo in prefettura a consegnarle simbolicamente al prefetto di Messina. La Fondazione Giglio di Cefalù ha dato il via ad un nuovo servizio di chirurgia ortopedica oncologica con l'arrivo nella struttura siciliana dell'onco-ortopedico Giuseppe Perrucchini. Si occuperà di diagnosi e di trattamento chirurgico di tutte le patologie neoplastiche nelle diversi sedi muscoloscheletriche e sia di tumori benigni che maligni, primitivi e secondari. Siamo molto contenti e orgogliosi. Quelle strategie attuali della Fondazione condivise con l'assessore Arrazza stanno incrementando ulteriormente la capacità attrattiva e la competitività di questa azienda. In particolare questa settimana abbiamo iniziato l'attività dell'oncologia ortopedica con il reclutamento del professor Perrucchini che proviene da strutture del nord Italia che daranno sicuramente una risposta adeguata e cure appropriate a tantissimi siciliani che fino ad oggi sono costretti ad andare al nord. Oggi ci candidiamo con questa attività di oncologia ortopedica a diventare riferimento regionale per tutti quei siciliani che oggi purtroppo sono costretti ad andare al nord. In Sicilia l'oncordopedia è poco rappresentata, è una nicchia, è una super specializzazione e grazie a questo offriamo un servizio molto prezioso per i cittadini. Noi vogliamo offrire ai cittadini siciliani questo servizio per poter ridurre al minimo e evitare i loro viaggi per cercare salute. L'unità operativa di ortopedia del Giglio di Cefalù offre una vasta gamma di servizi e di specializzazioni. Tra queste devo ricordare, oltre alla traumatologia, la chirurgia protesica, la chirurgia riferita alla traumatologia dello sport e del ginocchio, la chirurgia anche della colonna, quindi tutta la patologia del racchide, oltre alla chirurgia rivolta alle piccole estremità e alla piccola chirurgia di mano e piede. Localizzazioni di metastasi osse sono sicuramente in aumento perché aumenta la sopravvivenza dei pazienti oncologici grazie alla qualità delle cure e quindi la possibilità, ahimè, di trovare delle metastasi anche in situazioni perciò importanti per lo scheletro e a rischio di frattura o a livello vertebrale a rischio di compromissione, di compressione delle strutture neurologiche e in trend di sicuro di crescita. La cura dei pazienti che hanno tumori primitivi dell'osso, quindi che nascono nell'osso, nei tessuti muscoloscletrici direttamente e questo richiede una chirurgia specializzata in questo, che si affianca poi alla chemioterapia, alla radioterapia, cioè le altre cure della malattia oncologica e il trattamento appunto delle localizzazioni metastatiche all'osso e soprattutto quando appunto questo è richiesto per migliorare la qualità della vita del paziente o per impedire una compromissione grave come può essere appunto una paralisi legata a una compressione midollare nel paziente metastatico. Sono rimasto colpito dalla progettualità di questo ospedale appunto di portare un'eccellenza in tutti i campi e anche nell'ortopedia oncologica per dare una risposta alla popolazione della Sicilia. Qui a Giglio offriremo di sicuro le risposte ai cittadini della regione Sicilia per andare incontro appunto alle situazioni di oncologia ortopedica, cioè le localizzazioni osse e dei tessuti molli appunto per i cittadini siciliani. Colpito da un infarto è morto il noto conduttore radiotevisivo e critico musicale palermitano Tobia Caltagirone. Oggi avrebbe compiuto 60 anni. Ha avuto un malore mentre si trovava in via Pipitone Federico per un incontro di lavoro. Sul posto dopo la sua morte due auto dei carabinieri e una folla di persone. E' intervenuto anche il medico legale. Alla famiglia le condoglianze da parte della redazione. Segnalati i cumuli di rifiuti davanti l'ingresso dell'istituto comprensivo Manzoni impastato di via Parlatore a Palermo. a causa del mancato ritiro della differenziata da parte del comune. Insieme alla differenziata a Palermo pecca. Nella fattispecie a scuola avete anche accolto l'istanza dei genitori che lamentavano appunto queste carenze. Certo, quindi abbiamo attivato tutti i servizi che speriamo possano risolvere il problema. Il problema di fondo è che non corrispondono gli orari che loro usano con gli orari della scuola. E' chiaro che nei giorni stabiliti dalle 8 alle 9 è impossibile che qualcuno alle 22 e qualcuno sia a scuola per la consegna della differenziata. E quindi chiaramente si creano questi problemi con accumuli di detriti proprio in maniera come voi avete ben visto. E' incredibile che proprio all'interno di una struttura scolastica dove invece ci dovrebbero essere dei processi educativi che portano i ragazzi ad apprendere processi virtuosi appunto per la differenziata e invece tutto ciò non accade. E questo non perché la scuola non sia stata abbastanza non abbia sensibilizzato sufficientemente i ragazzi ma perché molto banalmente può sembrare appunto banale ma in realtà è uno dei problemi principali che sta vivendo oggi la scuola. Gli orari per il ritiro della raccolta differenziata sono sostanzialmente incompatibili con quelli dell'apertura dei portoni di una scuola. Pensate infatti che il ritiro in questa scuola è previsto dalle 20 alle 22 della sera. Incredibile se pensate che una scuola come tutte le altre naturalmente prevede una fascia oraria non oltre le 14.30, le 15.00 e così da più di un mese i rifiuti regnano sovrani seppur differenziati. Questo è il motivo per cui oggi abbiamo contattato l'ingegnere Putrone che si è reso disponibile a cercare di trovare una soluzione affinché concretamente questi rifiuti differenziati possano essere raccolti all'interno dell'istituto. Consiglio comunale ieri a Santa Flavia per parlare dell'emergenza di alcuni plessi scolastici. Criticità strutturali e problemi legati all'impianto di riscaldamento nella scuola comunale di Sant'Elia e nell'istituto Carol Voitila. Ascoltiamo l'intervista. Ieri sera sono state affrontate in aula consigliare due emozioni molto importanti che riguardano le scuole e nello specifico la scuola elementare di Sant'Elia e in maniera diciamo più generale tutti i plessi scolastici dell'istituto comprensivo Carol Voitila. Le emozioni nascono appunto perché da diversi mesi oserei dire anni e permangono in questi plessi scolastici delle criticità legate soprattutto alla struttura dell'edificio in sé per cui i bambini sono stati costretti a fare scuola in condizioni di disagio totale vedi mancanza di riscaldamento nella scuola media e vedi i bambini della scuola elementare di Sant'Elia costretti a fare lezione nell'androne scolastico. Si è cercato di affrontare il problema in maniera trasversale mettendo da parte l'ascia di guerra politica e cercando di instaurare un ponte collaborativo tra maggioranza e opposizione quindi noi dell'opposizione in prima persona io insieme al mio consigliere principato collega di gruppo abbiamo perorato presso l'assessorato di competenza l'assessorato regionale la volontà di portare avanti dei progetti che ottenessero dei fondi appunto per la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici scolastici. Purtroppo questi fondi sono andati perduti e ieri in aula si è fatta appunto una disamina di tutto quello che è l'operato politico di questa amministrazione che non è legata soltanto agli ultimi due anni cioè da quando noi abbiamo come sindaco il signor San Pilippo Salvatore. Di fatti sono state chiuse scuole e sono stati resi impraticabili spazi pubblici quindi negati ai bambini la possibilità di fruire completamente di quella che è la scuola che è l'agenzia educativa dopo la famiglia più importante dove si forma l'uomo e il cittadino. Ieri ci aspettavamo che tutta l'assemblea quindi anche dagli scranni della maggioranza venissero proposte venissero date appunto dei consigli all'amministrazione ma c'è stato il solito mutismo solo l'opposizione ha dibattuto. La cosa che più ha fatto male ieri sera è vedere come il sindaco invece di ammettere il proprio fallimento politico perché di questo dobbiamo parlare qua siamo in un borgo dove potete notare l'incuria perenne quindi il verde non curato la spazzatura lasciata negli angoli della piazzetta e così via chi ne piange le conseguenze sono i bambini i ragazzi dei nostri edifici scolastici che non vedono garantito in pieno il loro diritto all'istruzione Valorizzare i beni comuni abbandonati è questa la mission dei volontari dell'associazione palermitana Compa le interviste Il nostro obiettivo è quello di cercare di recuperare quanti più spazi verdi possibili in città per far sì che i cittadini possano trovare svago in questi luoghi quindi dai bambini agli anziani passeggiate in bicicletta corsa attrezzature sportive ecco dare una città veramente vivibile dove ogni singolo luogo quindi il giardinetto pubblico possa essere presente in qualsiasi zona e quartiere della nostra città soprattutto per tamponare quel fenomeno del del degrado che porta purtroppo anche spaccio porta ad attività malavitose quindi quei luoghi abbandonati che vengono valorizzati vengono vissuti dai cittadini sono luoghi dove si allontana il malaffare l'associazione compa sta organizzando tutta una serie di attività proprio per valorizzare il territorio palermitano dalla prima circoscrizione all'ultima in questo momento siamo particolarmente impegnati sia in seconda circoscrizione che in quinta quindi a Borgo Nuovo e dalle parti via Messina Marine giorno 27 di aprile saremo tutti al porticciolo della bandita quindi alla fine di via Messina Marine troviamo questo spazio semi abbandonato dove invece continuano ad esserci gli antichi pescatori di questa nostra panormus che con mille difficoltà continuano ad ogni modo a portare avanti questa tradizione stupenda contro tutto e contro tutti al loro fianco vogliamo proprio valorizzare quel porticciolo organizzeremo una estemporanea d'arte con artisti che produrranno arte lì sul posto una mostra fotografica ai racconti del mare ai bambini ma i pescatori stessi saranno attori di questa di questa mattina perché ci racconteranno le vicissitudini di questo porticciolo ma anche le leggende le storie la cultura che ci sta dietro le antiche arti e le antiche tradizioni è una manifestazione che inizierà intorno alle 10 del mattino 9 e mezza 10 per concludersi a ora di pranzo quindi intorno alle 13 e vedrà chiaramente anche la partecipazione di eminenti esponenti sia del governo nazionale che del governo locale e vedrà anche soprattutto la partecipazione del territorio siamo una serie di associazioni anche coinvolte proprio dalle nostre attività di partenariato di coinvolgimento parteciperà Zizart l'autismo parla peraltro le opere d'arte saranno alla fine donate proprio all'associazione l'autismo parla ci sarà LCU ci sarà Marevivo insomma tutta una serie di piccole grandi realtà che intendono spendersi per questo nostro amato territorio palermitano Anche per oggi è tutto grazie per averci seguito appuntamento alla seconda edizione di Media News